Ci tengo a farlo capire ai nostri telespettatori, perché ciò che tu organizzi, il ricavato, serve al buon fine dell'attività che tu fai annualmente. Non è che qua si organizzano serate perché di lavoro fai questo. Il sostegno viene principalmente dalle donazioni, dal 5 per 1000, ma anche dalle serate. Siamo stati tre anni in pausa, deve essere una serata di divertimento, di ricordo anche. Ci sarà a Castiglia con il suo intrattenimento, con le sue barzellette, con il sano divertimento. L'ha detto a poc'anzi il ricordo, ricorderemo chi è sempre con noi? Sì, ricorderemo la nostra volontaria Marica, che ha lavorato tanto con noi sul progetto Marica, che da quest'anno chiamiamo così, e ricorderemo tutto il suo operato. Condurrò insieme a Mirella Regina, collega che da anni ci prestiamo volontariamente al progetto di Gina, ma soprattutto questo progetto di Amici della Salute, che di anno in anno veramente aiuta tante persone. Lo facciamo noi con il nostro minimo, ma soprattutto il contributo più grosso lo faranno i telespettatori di Video Sicilia, che sicuramente il 26 luglio saranno presenti all'Arena delle Rose. Vi aspettiamo numerosi, perché grazie a voi portiamo avanti Gina e la sua associazione, portano avanti veramente un progetto validissimo, che aiuta tutti. Gina è il porto nelle nebbie, è quel faro che ti indica in queste tristi circostanze cosa fare e a chi rivolgerti, perché spesso sappiamo che la sanità siciliana è non solo. L'angue quando ci si trova, ai noi, in queste circostanze. Per esperienza personale posso solo ringraziare Gina, che in un momento di difficoltà familiare, per una patologia tumorale, ho dovuto rivolgermi a lei, che è stata l'unica ancora. Perché come dicevi tu, la sanità purtroppo ancora è molto lunga, è faticosa, è fariginosa. Gina è stata invece un punto di sostegno per la nostra famiglia, quindi io non posso più che dirle grazie a lei e a tutti i volontari, non posso. E per chi non conosce Gina, ha aperto questa associazione circa vent'anni fa, quasi, perché la prima lei ha fatto una promessa alla Madre Santa che se fosse uscita da quel percorso, il resto dei suoi anni li avrebbe impiegati nell'aiutare agli altri. È giusto che la gente lo sappia? È giusto che si sappia perché da 17 anni opera Gina nell'aiutare tutti coloro che ne hanno di bisogno e noi possiamo solo dire nel nostro territorio grazie Gina per quello che fai. Il minimo che possiamo fare come contributo è andare all'Arena delle Rose, il martedì 26 luglio, tutti presenti. Spettacolo di cavarè, tutto in beneficenza e tutto per aiutare amici della salute Ollus. Tanto la voglio bene Gina che quando compare il numero suo sulle cellulare non c'è pronto, è oigina oigina mia. Eh sì, ma Gina è la sorella di tutti, la mamma di tutti, l'amica di tutti, la cugina di tutti, è dolce da morire. Quindi per conoscerla ancora di più l'invito è sempre quello. Volevo ringraziare soprattutto i volontari, Francesca Artista, Anna Maria Boni e tutti i volontari che veramente ogni giorno si adoperano per portare queste persone a fare la radio, la chemio. Hanno aperto pure lo sportello oncologico sia a Castellamare del Golfo a Mariella Miceli sia a Trappeto e Ballestrate in San Maria Gnocchi. Quindi veramente grazie agli autisti, grazie di cuore a tutti quelli che mi circondano. Grazie. Grazie.